Piccolo problema Ognuno ha le sue fissazioni, niente di grave per carità La mia è quella di riuscire a liberare questi due elastici che si sono incastrati e per riuscire nel mio intento ho provato diversi modi tipo portare l'elastico che sta sopra dietro il pollice ma è un'illusione perché sempre incatenate ritornano Allora mi son detto prova dietro l'indice e sembra si siano liberati ma niente da fare, ritornano imprigionati come prima La soluzione che ho trovato è quella di sfilarli gli elastici dalle dita appallottolarli, strofinarli e saldarli insieme L'elastico saldato I vari passaggi di questo gioco, guardiamoli insieme Pollice indice Pollice indice dell'altra mano Questa mano si inserisce dentro l'elastico in questo modo quindi dall'alto verso il basso la ruoto di 180 gradi e questa è la posizione di base In realtà l'elastico è sempre uno, non sono mai due Per dare l'illusione che siano due li muovo state attenti a non alzarlo Poi nel tentativo di liberarli dico che porto quello sopra dietro il pollice Quando fate questo passaggio che è questo da dietro si vede così state attenti a coprire con questo pollice l'elastico che è qui perché altrimenti svelereste il trucco così ma la posizione giusta è questa Movimento oscillatorio che serve sempre a coprire vari passaggi chiave Stessa cosa per il dito indice faccio così anche qua massima attenzione a coprire l'elastico che sta su questo dito Movimento oscillatorio posizione di partenza tolgo l'elastico dalle dita lo appallottolo adesso è solo teatro perché la fase manipolativa è ultimata e i due elastici sono fusi insieme